Providenziale intervento da parte della polizia locale di Polla guidata dal comandante Andrea Sandoro. Una donna che si era allontanata in stato confusionale dall'ospedale Luigi Curto è stata salvata nella serata di ieri intorno alle 22. La scomparsa della donna infatti era stata segnalata dall'ospedale al 112, la notizia passata anche alla polizia locale di Polla che ha cominciato le ricerche. E' stata proprio una pattuglia della municipale guidata dal vice comandante Francesco Larocca che ha rinvenuto la donna, una cittadina europea non italiana, residente in un comune del Vallo di Diano di 48 anni che camminava in modo estremamente disorientato lungo la Polla Sant'Arsenio. Infatti la pattuglia lì ha ritrovato la donna lungo la strada regionale 426 sulla carreggiata in un tratto buio. Il rischio che venisse investito era davvero alto, così la pattuglia ha allertato il 118 e nel frattempo ha scortato la donna mettendola in sicurezza così da evitare che potesse essere investita. Una volta arrivato il 118 la 48enne è stata trasferita all'ospedale di Polla per tutte le cure del caso.